Gentili telespettatori, buona giornata. I magistrati fanno saltare il vaccino alla capo della Lega. Matteo Salvini aveva prenotato per la prima dose del vaccino ma non potrà farla perché la data che gli è stata assegnata coincide con quella di un'udienza. A svelarlo è stato proprio il segretario della Lega durante il suo intervento a un giorno da pecora, la trasmissione in onda su Rai Radio 1. Dice non ho ancora fatto il vaccino, mi hanno fissato a fine giugno ma il mio avvocato mi ha fatto notare che coincide con una data dei miei processi. Non so se è una giusta causa per spostarlo, ha aggiunto il capo della Lega. Il 28-29 di giugno era un lunedì, avrei dovuto essere a Torino. Il vaccino penso che si possa fare anche il giorno prima o il giorno dopo. A proposito della campagna vaccinale, il leader della Lega poi ha commentato il caos italiano ma lo vedremo in un prossimo video. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.